Hola hola, bentornati! Continuando le playlist di Monomarchio, questa settimana è SkinCeuticals, SkinCeuticals non si sa come si dice questa parola, ma la Monoroutine con tutti i loro prodotti. Subito il video! Benvenuti, bentornati! Benvenuti a tutti quelli che siete nuovi in questo canale. Io mi presento, innanzitutto mi presento, sono Luis Campos, il dottor Luis Campos, sono un medico, un chirurgo, mi occupo di medicina e di chirurgia estetica qua a Milano, città dove vivo, dove lavoro. Non sono milanese, non sono italiano, si sente dall'accento e ogni settimana in questo mio canale di YouTube vi parlo di cosmetica, di dermocosmetica, di tutto quello che voi potete fare a casa vostra, come io che sono qua a casa mia, per mantenere una pelle più bella, più luminosa, ralentare l'invecchiamento, avere un invecchiamento armonioso, tutto quello che voi potete fare a casa vostra. Per tutto quello che riguarda la medicina estetica, la chirurgia estetica, quello che io posso fare per voi in studio medico, in sala operatoria, vi invito a seguirmi sul mio Instagram, dove trovate altri contenuti di quello che faccio nella mia attività professionale e anche se volete capire come qua nel mio bagno mischio tutti i prodotti che provo per poi creare questi video di YouTube, mi potete seguire sul mio TikTok. Se vi piace il contenuto di questo video, qua sotto vi potete iscrivere al mio canale. Senza perdere più tempo, sapete che negli ultimi mesi ho fatto questi monoroutine con solamente un marchio. Questa settimana ho pensato, dico questo mese perché faccio uno al mese, ho pensato dai lo faccio di SkinCeuticals che me lo avete chiesto in tutti, non si sa come si pronuncia questo marchio SkinCeuticals, 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 non si sa come si pronuncia ma comunque lo trovate in tantissime farmacie qua in Italia. Tenete presente che per esempio in America un marchio americano solamente si commercializza negli studi medici, in medicina estetica, di chirurgia estetica e anche i dermatologi. Invece qua in Italia, in Europa, abbiamo la fortuna di trovarlo nelle farmacie. Costoso, niente da dire, è costoso. Mi criticherete dicendo ma Luis perché ci parli di questi marchi costosi? Vi parlo perché me lo avete chiesto e perché lo trovate in farmacia. Se il mese scorso parlavamo di mi amo, questo mese vi parlo di SkinCeuticals che hanno delle similitudini. Ok? Ma andiamo a parlare di SkinCeuticals. Vi faccio una routine il più semplice possibile e scegliendo pochi prodotti perché ne hanno una marea di prodotti che servono per quasi tutti i tipi di pelle. Ok? E cominciando, cominciamo per il mattino. La prima parte della routine di SkinCeuticals al mattino, il primo passaggio, la detersione. Io ho scelto per voi questo detergente, una crema che crea una mousse, una leggera schiuma, ricco in pantenolo, ricco in ceramidi. Quindi ottimo per qualsiasi tipo di pelle. Se la tua pelle è secca, se la tua pelle è grassa, se la tua pelle è mista, se la tua pelle è sensibile, questo detergente è per te. Perché? Perché contiene il pantenolo che mi va a idratare e mi contiene i ceramidi che vanno a ricreare la superficie, la barriera dermica, la barriera di protezione cutanea, la barriera epidermica della nostra pelle che è composta di fosfolipidi. E i ceramidi sono un ingrediente fondamentale per mantenere sana questa barriera che ci difende da tutto quello che ci circonda, del sole, dell'inquinamento, eccetera, eccetera. Primo passaggio della routine del mattino. Seguendo con la routine del mattino, poi vi parlo della routine di sera, Gli antiossidanti. E qual è l'antiossidante per eccellenza? La vitamina C. E qua, SkinCeuticals, devo dire che si possono considerare il re della vitamina C. Perché loro sono stati, se noi primi, quasi primi, a stabilizzare la vitamina C. Tanti anni fa, loro hanno una ricerca scientifica grandissima alle sue spalle sui metodi di stabilizzazione della vitamina C e dimostrano, hanno dimostrato nei loro sieri che per un mese e mezzo, se non di più, mi sembra sia un mese e mezzo, la loro vitamina C, che pura, nei loro antiossidanti, riesce a rimanere stabile. Quindi, se comprate queste sieri che costano un voto, lo riconosco, ma se vedete che diventano scuri, non pensate che la vitamina C sia ossidata completamente perché loro garantiscono che per quel mese e mezzo la loro vitamina C ancora ha la capacità di funzionare, ok? E se il classico, il CF Ferulic, penso che lo conoscete tutti, un mix di vitamina C pura con acido ferulico, come un altro antiossidante, quello a me, devo dire, che mi lascia la pelle un pochettino grassa e nelle persone che soffrite di brufoli o di pelle grassa, o di pelle asfittica, o di pelle con tendenza acneica, vi può far venire i brufoli. Quindi, la generazione più moderna, successiva a quel CF Ferulic, che ancora è un best seller del marchio, sarebbe il floretin. Questo floretin C ha una vitamina C pura, al 10%, oltre ad avere la floretina e avere l'acido ferulico. Questo è ottimo per qualsiasi tipo di pelle, per le pelle secche e per le pelle normali. Quindi, forse per le pelle secche vi consiglierei meglio il CF Ferulic, ma questo potrebbe andare bene a qualsiasi tipo di pelle. Se la tua pelle è grassa, se la tua pelle ha brufoli e vuoi utilizzare la vitamina C, che tra l'altro va benissimo per prevenire macchie e per rimuovere macchie, quelle macchie che lasciano anche i brufoletti, ok, per te il siero indicato sarebbe il Silimarin. Il Silimarin perché? Perché contiene innanzitutto Silimarina che va a neutralizzare l'ossidazione del sebo. L'ossidazione del sebo fa aumentare la quantità di radicali liberi nella nostra pelle e quindi favorisce l'invecchiamento della nostra pelle. Ma oltre a contenere quello, contiene un 15% di vitamina C pura e contiene anche un pochettino di acido salicilico che va a controllare l'infiammazione dei brufoli, l'infiammazione della pelle acneica e soprattutto a prevenire la formazione dei nuovi brufoli e a controllare la quantità di sebo che crea la pelle. Questi sono i sieri top, meravigliosi, i re di SkinCeuticals e se si conosce il marchio sono per questi sieri. Il resto dei prodotti sono di ottima qualità ma imparagonabili a questi sieri e a questi sieri che come vi dico hanno tanta ricerca dietro. Quindi se vi capita di voler fare un bel regalo adesso che arriva il Natale, eccetera, lo potete fare è davvero che non ne sbagliate. Costano, ma come io sempre dico, forse è meglio spendere di più nella parte centrale della routine e non tanto nei detergenti e non tanto negli idratanti, ok? Quindi se dovete spendere per fare una buona routine di skin care nella parte centrale, nei sieri e anche alla sera adesso lo vedremo. Come crema idratante dopo questi sieri? Un altro best seller del marchio che sarebbe la triple lipids di SkinCeuticals. Perché si chiama la triple lipids che vuol dire che ha tre tipi di lipidi? Loro la chiamano la 242 perché? Perché ha un 2% di ceramidi, un 4% di colesterolo e un altro 2% di acidi grassi, ok? E cosa sono tutti questi lipidi? sono proprio i componenti, gli ingredienti basici, diciamo i mattoni, per ricreare quella superficie cutanea, quella barriera cutanea che ci protegge dell'inquinamento, dei raggi solari, ci protegge fino a un certo punto, nel senso non sto parlando di un protettore solare, ok? Ma sì che ti va a ricreare la superficie cutanea, la barriera cutanea per avere una pelle più difesa e una pelle che non si indebolisce di fronte alle aggressioni. Per una persona che abbia la pelle grassa forse questa crema è un pochettino grassa, un pochettino unta, pur essendo leggera, va bene? Ma potrebbe essere unta. Io in quel caso passerei direttamente alla protezione solare perché loro hanno dei protettori solari che non solamente vanno a proteggere, sennò che vanno anche a idratare e ho selezionato tre dei loro protettori solari. Comincio per il primo. Il primo questo che oltre a proteggerti del sole, l'advance brightening, oltre a proteggerti del sole con un fattore di protezione 50, ha diverse caratteristiche. L'altro giorno mi avete visto in un video su TikTok che utilizzavo questo, avete visto che era leggerissimo. Perché? Perché è molto leggero, ti protegge un 50 di SPF e oltre a quello ha dentro degli ingredienti attivi come l'acido tranexamicum, come la niacinamide, che vanno a rimuovere le macchie, aiutare a rimuovere le macchie, non un smacchiatore, va bene? Non è una crema antimacchie o che ti toglie le macchie. Ti previene le macchie e oltre a quello, un pochettino sì che le potrebbe togliere. L'acido tranexamico, che ce l'ha all'1%, va a inibire l'azione delle cellule, delle melanocita, che sono le cellule incaricate di creare la melanina, quindi è il pigmento che crea la macchia, e quindi la tengono lì ferma. E poi la niacinamide, al 2%, si utilizza per rimuovere le macchie per schiarire l'incarnato, non l'incarnato, sennò schiarire le macchie. Quindi questa crema, oltre a idratare, oltre a proteggere, ti toglie o ti aiuta a togliere le macchie. Ok? Seconda crema di loro sarebbe questa, l'Oil Shield, che questa è indicata per te che hai una pelle grassa. Perché? Perché pur essendo molto fluida l'altra che ho detto, forse ti lascia un pochettino di lucido. Questa, l'Oil Shield, è creata di modo che non ti lascia lucido, e oltre a quello ha degli ingredienti che sono opacizzanti, quindi ti creano un matte, una riduzione del lucido, soprattutto per te che hai la pelle grassa o ha tendenza acneica. Ok? Per le persone che soffrite di una pelle sensibile, invece vi consiglio questo altro, il Mineral, che è una protezione solare minerale o quella che si chiama fisica. Ok? Essendo fisica, essendo minerale, vi potrebbe lasciare la pelle un pochettino bianca. Quindi, queste protezioni solari di solito sono un pochettino più dense, più pesanti. In questo caso, loro sono riusciti a creare un fluido che è leggerissimo. E vi assicuro che massaggiandole, il trucco delle protezioni solari minerali o fisiche sono che quando tu le massagli riesci a riscaldarle, a distribuirle bene e quindi non ti lasciano quella pattina bianca, quella pattina gesa. Per carità, ci sono in mercato, ci sono in commercio delle formulazioni, delle creme che ti lasciano quella pattina bianca. Questa, se non va distribuita bene, te la lascia, a prescindere. se va distribuita bene, riscaldata con le dita, mentre si fa il massaggio, si distribuisce benissimo ed è trasparente e non vi dovrebbe lasciare bianchi o bianche. Indicata per le persone con pelle sensibile, come può essere una persona con una rosaccia o con una pelle secca o con una pelle che si arrossa o con una pelle che ha utilizzato troppi acidi o retinola la sera e quindi è una pelle irritata ma si deve proteggere dal sole e forse i protettori solari a base chimica irritano un pochettino. Questa è la tua crema solare. Andiamo alla routine di sera per non annungarmi di più. Allora, routine di sera. Cominciamo con la detersione. E sapete che io sempre vi parlo della doppia detersione. Quindi la prima detersione la potete fare con il sapone che abbiamo utilizzato al mattino. Questo è il Refleshing Cleanser. Ok? Leggerissimo. Vi toglie il trucco. Vi toglie la sporcizia. Adesso vi dico due trucchetti. Ok? Se soffri di pelle grassa o di pelle a tendenza acneica come seconda detersione ti consiglio questo. questo è il Blemish Cleanser che contiene una miscela di acidi come il glicolico il salicilico e anche l'LHA che aiutano a rimuovere bene il sebo a pulire bene in profondità i pori e a lasciare la pelle meno grassa meno unta a controllare quella quantità di sebo che crea la pelle. quindi se la tua pelle è grassa inizia per fare la prima detersione con quello che vi ho detto al mattino e la seconda detersione la fai con questo con il Blemish. Ok? Se invece la tua pelle è secca possiamo fare così così puoi utilizzare quello del mattino il Blemish lo puoi utilizzare come prima detersione come seconda detersione puoi utilizzare un latte detergente o lo puoi alternare puoi utilizzare prima il latte detergente e poi il detergente un pochettino più schiumogeno anche se questo non è tanto schiumogeno come latte detergente la rospoce per esempio la rospoce mi sto confondendo di marchio e io i video non li taglio quindi andiamo avanti continuo con SkinCeuticals scusatemi allora SkinCeuticals ah questo detergente questo latte detergente il Gentle Cleanser a base di olio di arancio e anche a base di alantoina quindi molto gentile con la vostra pelle quindi se hai una pelle secca se hai una pelle sensibile invece di utilizzare il blemish che sarebbe più indicato per una pelle resistente o per una pelle grassa il tuo detergente deve essere questo latte detergente e qua potete scegliere se vi siete truccati o truccate forse è meglio iniziare dal latte detergente per rimuovere il trucco in superficie e poi utilizzare come seconda detersione il detergente che abbiamo utilizzato al mattino che fa un pochettino più di schiuma va a lavorare un pochettino più in profondità se invece vi trovate meglio potete fare incluso prima quel detergente e poi il latte detergente che vi lascia la pelle bella idratata e pronta per lo step successivo della routine di sera continuo adesso arriva il momento dei sieri e qua la SkinCyticals ha due sieri spettacolari se hai la pelle grassa il siero tuo e il blemish in assoluto imbattibile avvinamento di acido salicilico acido glicolico acido citrico c'era un altro acido dioico ok e c'era anche l'LHA quindi una combinazione un avvinamento di acidi ottimi per trattare la pelle a tendenza acneica la pelle con acne la pelle con brufoli la pelle con punti neri ok se invece la tua pelle non è acneica e vuoi utilizzare un siero anti imbecchiamento anti rughe anti macchie anti tutto e anche anti brufoli perché serve anche per le persone con la pelle acneica e con brufoli il vostro siero il vostro ingrediente attivo di utilizzare alla sera quale il retinolo e loro hanno questo retinolo al 0.3% retinolo puro molto ben formulato che oltre ad avere il retinolo al 0.3% che è la concentrazione massima permessa in Europa in America mi sembra che arrivano fino all'1% ma in Europa è fino al 0.3% questo è molto ben formulato ma per esempio nelle persone che ancora non avete utilizzato il retinolo se iniziate subito a utilizzare questo retinolo può essere un pochettino forte ma qua SkinCeutical si è messo alle mani un pochettino davanti ha detto aspettate che io dentro della mia formula vi metto la Boswellia ok e vi metto anche il pantenolo il visololo che serve per idratare la pelle scusate che faccio casino con i nomi ma comunque sono degli agenti degli ingredienti lenitivi che vanno a prevenire l'irritazione che vi potrebbe dare il retinolo quindi siete sul sicuro o siete sul sicuro nell'utilizzo di questo retinolo se sentite che il retinolo vi può irritare un pochettino se sentite che la pelle è un pochettino secca se sentite che la pelle è un pochettino tirante dopo l'utilizzo del retinolo o dopo l'utilizzo dell'altro siero il blemish che vi ho detto cosa potete utilizzare alla sera sempre la triple lipids la crema best seller di SkinCeuticals che vi andrà a lenire perfettamente a idratare perfettamente e a dare quella resistenza quella quello scudo di protezione che la nostra pelle deve avere ricreando la barriera di protezione cutanea e questi erano tutti i prodotti di cui io vi volevo parlare per creare una monoroutine con SkinCeuticals ripeto ce ne sono altri sieri c'è per esempio l'HA intensifier che è acido ialuronico fantastico c'è anche il fito perfetto il fito fito perfect no perché il fito perfect è della Codalie no quello è il vino perfect il fito perfect è della della SkinCeuticals comunque quello verde che va benissimo anche per le pelle acneiche per le pelle con impurità anche le pelli asfittiche va benissimo perché una miscela di acido azelaico se non ricordo male con degli ingredienti botanici e va perfetto perché dà quella sensazione di freschezza che a volte le pelle grasse le pelle acneiche gradiscono tantissimo e poi ci sono altre cose della SkinCeuticals per esempio ci sono anche le creme a base di silicone che servono per le cicatrici e direi che loro sono e ve l'ho detto il re per gli antiossidanti per quella vitamina C che è quasi praticamente imbattibile e che ha dietro una storia di letteratura scientifica di studi scientifici che dimostrano la sua utilità costoso marchio costosissimo cominciate qua sotto a scrivere tutte le critiche di perché vi parlo di questi marchi costosi ma siccome quelli che mi seguite ci sono quelli che possono spendere di meno quelli che possono spendere di più quelli che possono spendere tantissimo cerco di parlarvi di un po' di tutto non parlo forse dei super marchi quelli costosissimi costosissimi perché penso che con meno soldi si riesce ad ottenere gli stessi risultati se volete che parli di quei marchi super costosi meravigliosi che ti fanno sentire il più ricco la più ricca al mondo ne parlerò in un futuro sicuramente ne parlerò ma qua se spendete i soldi con questi seri della SkinCeuticals con i prodotti della SkinCeuticals siete sul sicuro che i soldi che state spendendo non vanno buttati perché veramente state comprando un ottimo prodotto ok io vi saluto vi ringrazio di esserci qua un'altra settimana è iniziato gennaio sta arrivando Natale mi state chiedendo quando fare una diretta faccio la diretta a fine mese mi sembra che sia il 22 dicembre quando chiuderò la clinica l'ultimo paziente della serata sarete tutti voi di modo che ci faremo gli auguri di Natale e ci diremo tutto quello che ci dobbiamo dire io adesso continuo a lavorare per voi a preparare il video della settimana prossima che sarà quello dell'8 dicembre in mezzo al ponte dell'Immacolata e di Sant'Ambrogio qua a Milano ma io me lo lascio tutto pronto per voi perché io sarò facendo il ponte ma io non vi posso lasciare senza video aspetto i vostri commenti qua sotto se vi è piaciuto il video mi fate un like se non vi è piaciuto fate così se vi volete iscrivere iscrivetevi se non vi volete iscrivetevi non iscrivetevi ma io la settimana prossima sarò qua pesante di nuovo a parlare di dermocosmetica e di come far diventare più belli a tutti voi e a tutte voi vi saluto grazie mille ciao 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 Grazie a tutti.